Ben trovati al TG Sordi di Lecce 7, doppia operazione contro la criminalità organizzata salentina in appena una settimana. L'operazione Game Over, coordinata dalla DDA di Lecce, ha colpito il clan Briganti e portato all'arresto di 17 persone. A Nardò, un'operazione della polizia ha sgominato un gruppo criminale dedito a spaccio, usura e distorsioni. Sono 104.240 le persone attualmente positive al Covid in Puglia. 627 quelle ricoverate in area non critica e 36 le persone in terapia intensiva. I dati sono contenuti nell'ultimo bollettino della regione. Le province più colpite rimangono quelle di Bari e Lecce. Incinta a 14 anni. Scattata denuncia per un 26enne accusato di violenza sessuale aggravata su minori. La vicenda è venuta a galla dopo l'intervento di una pattuglia per una lite all'interno della villa comunale di Lecce, tra la ragazzina ed il giovane, che ha anche aggredito gli agenti, rimediando una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Tragedia a Castro. Muore dopo una partita a tennis a 45 anni Gianluigi Ciriolo. Molto noto in paese. È stato stroncato probabilmente da un attacco cardiaco sotto la doccia. Inutili i soccorsi. Cordoglio dei concittadini. Ascensore nel campanile di Piazza Duomo. Alvia le visite sull'ascensore panoramico che permetteranno di ammirare Lecce dall'alto. Il prezzo dei biglietti è di 13 euro per quello a tariffa intera, mentre il ridotto avrà un costo di 9 euro. Gli orari di fruizione andranno dalle 10 alle 20. Momento decisivo per i giallorossi. Il Lecce batte la SPAL e vola in vetta al campionato di serie B a 65 punti, a 2 di distacco dal Monza. In società fa ingresso un nuovo socio con una quota del 10%. Si tratta dell'imprenditore Neretino Barbetta.